Nel video di oggi ti mostreremo come installare iTunes sul tuo computer. Con questo programma puoi connettere il tuo telefono iPhone al tuo computer. Anche se l'installazione non è nella tua lingua, devi solo seguire gli stessi passaggi. In Google cerchiamo iTunes e inserisci il primo risultato. Si seleziona 32 bit o 64 bit, a seconda del computer. Se hai torto riceverai un avviso nel passaggio successivo e dovrai solo ripetere l'operazione con l'opzione corretta. Aspettiamo il download, potrebbero essere necessari alcuni minuti. Una volta scaricato, apriamo il file e facciamo clic su Esegui. Aspettiamo che raccolga le informazioni necessarie. Una volta che il programma di installazione si apre, fai clic su Avanti. Ci chiederà le opzioni di installazione che vogliamo. Il primo controllo è di aggiungere un collegamento al desktop. Il secondo controllo è di usare iTunes come applicazione audio predefinita. Il terzo controllo è che iTunes si aggiorni automaticamente. Selezioniamo la nostra lingua e facciamo clic su Installa. Aspettiamo che venga installato e lo diamo per finire. Il programma si aprirà automaticamente. Se ti è piaciuto, dacci un mi piace e iscriviti al nostro canale.